Vogliamo chiarezza, vogliamo una strategia, non è possibile che i ristoranti e i bar vengano trattati come interruttori che si aprono e si chiudono in continuazione. Noi oggi e domani in teoria dovremmo essere aperti, dopo domani e il giorno dopo chiusi, poi lunedì non si sa bene. I ristoranti sono delle aziende che devono programmare, che devono comprare merce deperibile e non è possibile continuare a gestire le cose in questo modo. Quello che chiediamo è una forma di rispetto per i lavoratori, i lavoratrici e gli imprenditori che fanno parte di questo settore, ma più che altro non riusciamo a capire perché le cose le dobbiamo sapere un giorno prima, mezza giornata prima, oppure comunque non avere una programmazione e qualcuno che ci dica va bene tenete tutto chiuso, state fermi e ne riparliamo a marzo, ma perlomeno che ce lo dicano, da un giorno all'altro non si sa mai cosa si fa. Io adesso faccio il cuoco ma non ho nessun locale, però per questo lavoro perché il locale dove lavoravo ha dovuto chiudere.